E si è concluso anche quest'anno con un bilancio positivo il Festival Internazionale Turipani di Setanera dedicato alla cinematografia sociale. Gianni Maritati. Dal dramma della solitudine alla violenza sulle donne sono tanti i temi affrontati in questa quindicesima edizione del Festival Internazionale Turipani di Setanera a Roma. La cinematografia sociale guarda ai fragili e agli ultimi per suggerire percorsi nuovi ispirati alla dignità, alla parità di genere e all'accoglienza. La quindicesima edizione è il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Turipani di Setanera si è occupata sicurezza nei cantieri, mai più morte, ha detto il ministro Orlando, disabilità mai più incidenti come la polfer con il ministro Stefani. E poi ci siamo occupati di dialogo internazionale e premeremo Luca Attanasio, che dovrà la moglie ritirare attraverso le mani del ministro Di Maio. E poi Paola? Abbiamo realizzato quello che è parlare attraverso i cortometraggi, i documentari e quest'anno si aggiungono i digital serie per parlare di sociali, di tematiche importanti, ma non solo per il pubblico, ma per tutti noi, perché il mondo ha bisogno anche di quei concetti importanti che sono la positività dei valori e dell'inclusione sociale. Testimonial dell'evento, Anna Safroncic e Neri Marco Re. Dorena Bianchiti condurrà il 27 giugno su Rai 2 il galà del Festival. La pace si costruisce rispettando l'altro, rispettando le specificità di ognuno di noi. E il cinema, la pellicola, ma non solo, anche la musica, sono quegli strumenti che riescono davvero a mettere in sintonia cuori diversi, sentimenti diversi, culture diverse.